A chiusura di questa pagina politica la dedichiamo ad un ospite che di politica vive da 50 anni. Lo vedete accanto a me, io lo presento subito, è Pietro Pepe. Io la ringrazio innanzitutto per essere qui, presidente del Consiglio della Regione Puglia, che nei giorni scorsi ha annunciato di lasciare la politica. Una scelta molto difficile. Lei ha detto di voler lasciare la politica da arbitro. Che cosa vuol dire? Intanto grazie per questa attenzione, per questa antica consuetudine che si è instaurata tra il Consiglio regionale e Antenna Sud, e in particolare con la signora direttora, che mi piace chiamarla così. Non la pensano tutti così, è contestatissimo il direttore. Io presumo di rappresentare la comunità pugliese nella sua sovranità totale, e quindi rappresento tutti i pugliesi, e questo è un giudizio del capo di tutti i pugliesi. Poi vediamo, a parte la battuta, esco da arbitro, nel senso che, avendo avuto l'onore di rappresentare il Consiglio regionale, e quindi di essere stato terzo presidente, mi sono dato una regola, che è stata quella di essere veramente garante nei confronti sia della maggioranza che della minoranza. E nel corso del tempo, io spero che sia stata avvertita anche dall'opinione pubblica, nel corso del tempo, abbiamo dimostrato che quella funzione deve rimanere tale, e chiunque la dovesse successivamente assumere, deve porsi il problema di come rendersi credibile, e quindi di fare l'arbitro. E l'arbitro, una volta che ha finito la partita, non può diventare giocatore, e quindi di nuovo parte, un po' di serietà, un po' di coerenza, un po' di amor proprio, qualche volta il buonsenso, che è l'unica cosa di cui dispongo, la mettiamo a disposizione per lasciare un messaggio credibile, non nessun testamento, ma insomma un modo di essere che potrebbe essere utile. Io ho avuto l'ultimo giorno, quando si sono stretti la mano, Palese e il Presidente Vendola, ho avuto un momento di emozione, perché di fatto ho avuto la conferma. Facciamo un esempio, i giorni precedenti... Che erano stati un po' movimentati. Non si è varato nulla, una giornata e una nottata per fare un articolo, mentre l'ultimo giorno, quando è entrata in funzione la mediazione di scuola morotea, il dialogo, la ricerca di qualcosa che mette insieme, e il mio tramite è servito a questo, beh io sono stato veramente, come dire, confortato che la strada del dialogo era efficace. Quindi mi sembra di capire che la politica degli ultimi tempi, quella insomma delle polemiche, dei botte risposta a distanza, ha delle puntualizzazioni anche forti, è quella che le piace di meno e che forse non le mancherà. Io mi allontano anche da questa... Certamente non abbandono la passione, la politica non mi abbandona, la rappresentanza, e ci sono tanti modi per essere presenti nella comunità e contribuare a dare un contributo, però non accetto questo scontro fine a se stesso, questo parlarsi addosso, privi di contenuti. Io non so se i cittadini riescono a cogliere il senso delle dichiarazioni, perché non tutti sono dentro alla materia, quindi un invito ad un maggior dialogo, a una comunicazione più efficace, più rispettosa. Teniamo conto che la politica è servizio, ed è servizio alla persona, questo mi hanno insegnato. Se viene meno questa missione, io non so che cosa è la politica, è altro. L'ultima domanda è una domanda un po' imbarazzante, ma d'obbligo, visto che lei è un arbitro, e tra l'altro di questa levatura, non possiamo non accettare da lei un'indicazione, un giudizio anche spassionato, soprattutto perché tre sono i candidati, due lei li conosce molto bene, Rocco Palese e Nichi Vendola, però volevo da lei un'analisi di questa campagna elettorale, e un giudizio sui tre candidati maggiori. La campagna elettorale è appena iniziata, i candidati sono di valore, tutti e tre, su questo non ci sono dubbi, e anche sulla loro dignità, nel senso della affidabilità, non ho elementi per poter dire qualcosa di diverso. Parliamo dei tre candidati maggiori politici, perché gli altri due non li conosciamo politicamente. Poi parlo della signora Polibortone, e quindi anche se ci sarà un quarto, che adesso non lo so, anche quello, secondo me, non ho elementi per poter dire che non meritano la fiducia e la stima dei pugliesi. Attorno a questo poi c'è tutto un mondo, che deve in qualche modo rappresentare i problemi e le questioni della Puglia, e io mi auguro che avvenga con questo stile, che ci sia il confronto, il confronto leale, se volete anche severo, ma sui contenuti, non mi piacciono né le aggettivazioni, né gli apprezzamenti, appartengono ad un altro modo, e non aiutano. Credo che possono in qualche modo aiutare la politica a ritornare, come dire, nei ranghi e nel ruolo. Altrimenti, non lo so, allontaniamo sempre di più la comunità da questo interesse essenziale per la vita di relazione. Noi la ringraziamo, io la ringrazio per essere qui, spero di rivederla presto, perché il tempo a disposizione è poco, ma sentirla parlare è appassionante. Grazie per essere qui. Tornerò, diciamo, dopo la campagna elettorale. Assolutamente sì. Verrò a chiacchierare, a dare un contributo. Sarà sempre il nostro ospite. Saremo ben lieti di farlo, sperando che qualcuno non si dimentichi di noi. Adesso abbiamo lanciato il seme del ricordo. Assolutamente sì. Grazie, grazie dell'accoglienza. Grazie a Saki.